qualche altro capillo abbiamo e qui qui un altro incontro tanto per cambiare due babbuini nuovamente sono abbastanza odiosi vediamo se riusciamo ah non è morto sono due colpi non è possibile uno a te e ora uno a te schivata stavolta non si sa come importante è schivarlo munizioni va bene e adesso è il turno della nostra medicina vediamo qua sotto se troviamo qualcosa no eeeh ma saliamo le scale sembra esserci granché infatti non c'è niente e allora scendiamo dall'altra parte ma no no le piantine di nuovo questa volta sono tre porca miseria colpito ancora non ho ben capito il range di quell'attacco ahhh vabbè speriamo di non essere colpiti meno male no ho schivato l'attacco e poi non lo so uno riesco a schivarlo casualmente ecco colpito di nuovo ma vabbè dovrebbe rimanere un colpo questo benissimo munizione ste piantine mmm tanto un'altra ricarica il nostro M16 poderoso che non credo però perché voglio aspettare qualcosa di più decente cioè la prossima arma ecco così farò due prove con i tools ho un bel telefono volendo potremmo salvare ma il gioco è bastardo e non ci fa salvare prima bisogna fare l'incontro colpito ancora non si sa bene perché vediamo giù un piccione questo piccione che non attacca eccolo qui e ora rimane questa piantina malefica vediamo eeeh non ci ha fatto accadere neanche prima del suo attacco 60 hp se usiamo tanto tanto ora un'altra volta me la prendo per vedere infatti che mamma mia veramente odiose queste piantine un'altra uff mi sa che era meglio se prima uscire con la piantina ma vabbè adesso potremmo salvare ma noi non ci interessa abbiamo i nostri poterosi quick save mmm beh bene incontro subito questo spiazza come l'impressione di un boss oh per vinci bacco e che succede qui attacchiamolo subito aia aia questi due rimangono non fanno niente questi venivano fuori però prima attacca ah ho perso l'azione sono questi due e non fanno niente i due attaccano e gli altri due stanno fermi colpito benissimo colpo è andato farsi benedire usiamo un'altra medicina non si sa mai adesso riusciamo a schivarle eh non è tempo di ricarica però no mi sono fatto sorprendere colpito di nuovo niente beh un colpo come sempre viene lasciato eeeh vabbè ma cos'è oh uno finalmente se n'è andato adesso però mi curo non vorrei usare anche l'altro revive ah ma il culo era qui ma sono diventati più grossi o è un'impressione mia eh si attaccherà no bene pam pam poi si attacca poi si attacca quindi si spara su di lui che culo è ritornavo fuori colpito 33 nuovamente un'altra cura ci sta bene proviamo a stare più lontano questo non dovrebbe attaccare e invece si ho preso un'altra botta aia vediamo se riesco a oh due colpi meno male vediamo se non si schiva mai tanto il PM mi sembra che non si rigenere di più comunque la faccia molto lentamente molto 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 lentamente schivato schivato questo torna giù su di lui non dovrebbe attaccare meno male e non muore uh è morto grande schivato bene ne mancano solo due sono sempre più grandi sì e vanno sempre più veloci ne è rimasti solo uno erano due vediamo se due colpi riesce a prenderseli sì bene porca puttana ahhh mi sa che qui un colpo sodo me lo prendo infatti quindi vediamo da dove li sbuca sbuca da qua se io mi metto qui niente 45 mi ha fatto altra curata immediata stavolta voglio provare a stare a destra qui che sta facendo questo ragazzo forse forse ho capito vediamo un po' ahhh ah non posso usarla no no target aspetta ok e ora si va niente e non muore per l'ennesima volta mmm quindi 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 vediamo un po' è un attacco prende tutto c'è niente da fare fuori dal target cazzarola e un colpo se ne andò eh cambiato attacco meno male è morto perché mi sa che avrei fatto una brutta 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 intanto 2 level up ho preso anche barrier 613 bonus point quanta roba prende tutto visto che ho finito le medicine quic save nuovamente vediamo un po' difesa più 1 difesa più 1 è un'altra difesa più 1 è rimasta una medicina 2 vabbè un difesa più 1 usiamolo nostra buon vecchia armatura che usiamo IAL1 e continuiamo dritto ecco non c'è male adesso ci tocca YAL1 e non ho più medicina vai vai andiamo se va a fa se va a fa un giro se va a fa un giro veramente LOL ah però riparte una lirica cavallo ha preso fuori e c'è sta bella tizia speriamo che c'è un combattimento sul carro su un carro con un cavallo in fuoco però è solo umano si verai che devo essere se te è quella diversa io solamente ho qualche potere no non ci voglio credere non me lo dire queste cose cioè eeeh meno male ah già anche i piedi però continuano realicarsi lentamente però una cura facciamocela non si sa mai eh lo so bella devo aspettare perché se no qui mi ha attaccato maledetta 37 non c'è male bam un'altra fiammata me l'ho dimenticato di ricaricare si si qui curarsi molto importante fa che torna qua e se ne va come ah no non lo so chi sei sei talmente brutta che anche se ti erano scesi ma eeeh stavo pensando cavallo in fiamme è sempre lì eh beh oh questa fa mi tocca mi tocca cazzo mi ha toccato eccolo lì un bel cavallo in fiamme oh meno male ci ha messo però di tempo il cavallo eh durava parecchio